Il limite di 0,5 mg litro di alcol nel sangue corrisponde oggi a un paio di bicchieri di vino, questo è quello che dice il codice della strada, per cui trattare le persone che bevono un paio di bicchieri di vino come ubriaconi vuol dire non essere in linea con la legge italiana. E soprattutto ricordiamo, perché si vuole lavare la coscienza, che solo il 2% degli incendi stradali in Italia avviene in guida in stato di ebrezza, cioè abbiamo un 98% di incidenti, secondo le statistiche, che avvengono per altre motivazioni dove il guidatore non aveva bevuto. Io sono per la tolleranza a zero, nel senso che chi guida in stato di ebrezza deve essere veramente punito severamente e il problema è che non possiamo pensare di portare a zero il limite, perché portando a zero il limite di alcol nel sangue significa che anche un bicchiere, un aperitivo, un paio di bicchieri a pasta non si possono più bere.